Checco, ex di Carmen Borriello, ha una nuova fidanzata e si chiama Carla e da 30 anni, 10 in più rispetto a Checco. La relazione tra Checco e Car, intrapresa a pochissimo tempo dalla fine della storia con la Borriello, ha suscitato tantissime critiche. Molti infatti hanno considerato indelicato aver reso pubblica la relazione in un momento così complesso come la gravidanza per Carmen. Ricordiamo infatti che la giovane tiktoker e Checco aspettano un bambino. A quanto pare però non sarebbe stato Checco a scegliere di rendere pubblica la storia. Ma il papà di Carla che avrebbe postato dei video su TikTok in cui ha mostrato la coppia a tavola senza che loro volessero essere ripresi. Carla, dopo aver subito numerose offese, ha dichiarato che non le interessa se si sono diffusi subito i suoi video insieme a Checco. Perché sente di non aver tolto né padre né fidanzato a nessuno, in quanto la storia tra il suo fidanzato e Carmen era già finita. Come ha reagito Carmen Borriello a tutto questo? Su Instagram la giovane tiktoker ha rivelato di star vivendo una crisi a causa di varie cose non vere che sono state dette. E in una live ha condiviso la sua scelta di farsi scivolare tutto di dosso. Dalla redazione di Webbo per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.